Il risultato di 1-1 nel derby tra Fidelisandri e Taranto non è stato omologato, la società Rosso-Blu infatti ha preannunciato reclamo. A essere finita nell'occhio del ciclone sarebbe la posizione dell'attaccante argentino Pablo Acosta, che nel corso della stagione agonistica 2020-2021 è stato tesserato per tre società, Fiuggi, Molfetta e per l'appunto Andria. L'articolo 95 dell'Enoif, in deroga per l'annata corrente, disciplina tale scenario ufficialmente per i calciatori professionisti e o giovani di serie, senza menzionare quelli dilettanti. Un vuoto normativo, almeno a primo impatto, a cui si è già appellata la team Altamura per casi simili, che di fatti rendono a oggi non ancora omologati i risultati dei murgiani contro Lavello e Bitonto. Qualcosa in più se ne dovrebbe sapere mercoledì 12 maggio. Il giudice sportivo, intanto, ha appiedato per un turno Gianluca Mastromonaco. L'esterno offensivo classe 2000 non sarà a disposizione per la sfida contro il Portici. Nell'occasione non siederà in panchina il DS Francesco Monterbino. Il quinto giallo della stagione implica per lui un turno di squalifica.